Molino Marino è un'azienda familiare, è nata nel 1956 come Molino a Pietro. Produciamo farine artigianali provenienti da culture 100% biologiche ed esclusivamente italiane. Negli anni abbiamo mantenuto una grande attenzione alla tradizione di questa professione e alla qualità dei prodotti che realizziamo, scegliendo però al contempo di intraprendere un percorso di digitalizzazione e automazione della produzione. I passaggi generazionali hanno spinto verso questa direzione per sperire all'inesperienza dell'attività da mugnaio. Con Molino Marino abbiamo iniziato degli interventi di digitalizzazione della produzione già dieci anni fa con un'automazione assistita ed oggi siamo quasi ad un automatismo completo ottenendo così i benefici del piano transizione 4.0. Come il sistema di predievo dei cereali dal Silos, ora realizzato in maniera automatizzata, nella misura delle percentuali desiderate, in maniera rapida e senza possibilità di errore. In linea con la nostra filosofia, anche i concetti di risparmio energetico e sostenibilità sono molto importanti. Negli ultimi anni abbiamo provveduto all'installazione di pannelli fotovoltaici per la nostra fornitura di energia elettrica, mentre la restante la acquistiamo al 100% da fonti rinnovabili. Grazie ad Eurobeta e a un partner tecnologico di fiducia come Schneider Electric, tradizione artigianale e innovazione tecnologica non sono mai state così in sintonia.